Il trittico, che vale quanto un esame di maturità per il Bari, comincia lunedì prossimo ad Avellino. Profumo di altri tempi per l'appuntamento al partegno, sfida con quarti di nobilità, anche se, guardando alla stringente attualità, quella contro gli Irpini è la prima tappa delicata che il Bari dovrà affrontare per capire quanto sia solido il primo posto in classifica. Ma in discussione anche nei momenti di flessione di questa prima parte di stagione coincisi con le sconfitte contro Virtus Francaville e Juve Stabia, ancora di più puntellato con le vittorie su Vibonese, Fidelisandria e Latina che diventano il vento in poppa con il quale sfidare l'Avellino. Daniele Paponi, attaccante sempre più titolare con Antenucci, guarda alla sfida di lunedì e offre la sua chiave di lettura per un Bari che non può fare calcoli. Io penso che una gara così, con una diretta concorrente, non doverla affrontare nel modo giusto sia difficile. Poi ogni gara è a sé, sappiamo che è una squadra fortissima, una squadra costruita per vincere come noi e quindi prenderla sotto gamba non credo. Poi ripeto, ogni partita ha una storia a sé, ma noi proveremo ad andare là a vincere con l'atteggiamento che abbiamo avuto in queste partite e faremo di tutto per portare a casa il risultato. In attesa del trittico tanto simile ad un esame di maturità, dopo l'Avellino ci sarà il derby contro il Taranto e la sfida con il Palermo, Paponi analizza il suo momento raffrontandolo con le ultime stagioni vissute da protagonista sia con il Piacenza che con la Juve Stabia, prima che il Covid fermasse anche il calcio. L'anno strano sia stato l'anno scorso, perché l'anno prima a Piacenza, in cinque mesi prima della pandemia ero capocannoniere del Girone, mi ha battuto il mio ex compagno Biasci per un gol e l'anno prima ancora ero il capocannoniere della mia squadra con il quale ho vinto il campionato che era a Castellamare di Stabia. Quindi è stato solo l'anno scorso un anno molto particolare, forse molto probabilmente quei cinque mesi dopo che sono stato fermo per il Covid alla mia età e contando il fatto che io ci ho sempre sofferto con questi problemini muscolari anche in passato, forse non mi ha aiutato.